finalmente una bella notizia che mi rincuora si tratta di questo annovate milanese e sorta una struttura che si chiama condomicio perché condomicio perché ospita è una casa bella arredata bene ospita soltanto i gatti che momentaneamente non possono stare a casa ebbene questa casa è meravigliosa è fatta bellissimo i gatti stanno da dio che non mi pento di questa definizione e quindi sono mi salute e vengono curati in modo esemplare per dirvele una hanno delle cucce non delle gabbie ma delle cucce insonorizzate in modo che il gattino che voglia dormire non è disturbato da qualsivoglia rumore insomma io di fronte a una situazione di questo tipo non posso che commuovermi e ringrazio la persona che ha allestito questo complesso pensando ai gatti i quali gatti sono una compagnia fondamentale per l'uomo e solamente i cretini li odiano comunque non li ospitano e soprattutto li abbandonano questo non deve avvenire nel modo più assoluto perché i gatti danno molto amore ma bisogna darne anche noi un pochino questo mi sembra del tutto ovvio comunque per questo condomincio io voglio semplicemente fare un applauso perché merita merita di essere divulgata la notizia che esiste la struttura e in più voglio complimentarmi con la persona che è stata in grado di allestire una meraviglia del genere mi auguro che venga imitata perché sostanza gli animali per noi sono molto importanti noi li amiamo come esseri viventi normali come come noi anzi un pochino di più